Squadra numero 9 di questa rassegna, senza dubbio la più scarsa, oddio senza dubbio me lo direte voi, ma senza dubbio la squadra con le canote migliori. Si parla dei Brooklyn Nets. Partiamo! Prima di partire, come al solito vi ricordo due o tre cosucce. La prima è di iscrivervi al canale e attivare la campanella. La seconda è quella di seguire la pagina Instagram e underscore Franz è la mia pagina pubblica, personale, e lì continuerò il lavoro che avevo iniziato su NBA Revival Zone, su Instagram, ovviamente senza impegno e senza infamia e senza lode. La terza cosa, la più importante, è il negozietto in descrizione. C'è una nuova promo per chi acquista canote NBA, per soglie di spesa si possono richiedere una canota omaggio e un paio di pantaloncini con la canota. Quindi due articoli in omaggio, una canota e un paio di pantaloncini, a seconda di varie soglie di spesa. Lo trovate, come al solito, in descrizione. Per qualsiasi informazione scrivetemi pure. Canote negozietto, mi raccomando. E ora buttiamoci a capofitto su quella che è la prospettiva più o meno rosea dei Brooklyn Nets per la prossima stagione NBA. Vai! Siamo tornati qui a parlare di un'altra squadra di bassa classifica. Mi riprometto ogni volta o sarà l'ultima, sarà l'ultima, sarà l'ultima, invece no. Continuano ad esserci squadre orripilanti, forse, forse qui parliamo della peggiore di tutta la NBA. Secondo me no, però insomma, a detta dei bookmakers sì, ma ne parleremo dopo. Nella scorsa stagione, una stagione caratterizzata da tante, tante i rumors, a partire insomma dai rumors che riguardavano Michael Bridges, a Ben Simmons, al fatto che i Nets non potessero tankare per mancanza delle loro pick, la stagione è stata chiusa con Jacques Vaughn alla guida, 32 vittorie e 50 sconfitte. I Nets avranno un nuovo allenatore, si tratta di Jordi, impicchiamo Jordi più o meno, Jordi Fernandez, allenatore di stampo europeo, spagnolo e anche in questo caso insomma ne parlerò un po' dopo in quelle che sono le aspettative per questa stagione che sta per ricominciare in quel di Brooklyn. Nuovi arrivi, poca roba, è arrivato sia Air Williams che aveva completamente perso minutaggio nonostante all'inizio della sua carriera NBA lo avesse ricevuto in quel di Memphis, poi insomma gira e rigira è arrivato a Brooklyn ed è in scadenza proprio del suo contratto da rookie. Nessuna pick al draft dal momento che le pick dei Nets non erano in loro possesso, nessuna situazione seria da definire e l'estensione, per quanto riguarda le estensioni c'è la rifirma di Nick Clexton, l'unico contratto che avevano in scadenza nella scorsa stagione è stato rifirmato, rimarrà ai Nets per altri 4 anni fino al 2028 e però insomma per entrare a pie pari nella situazione salariale facciamo come al solito riferimento a Spot Rack. Allora signori, Spot Rack, eccoci qua. La situazione salariale dei Nets per questa stagione è questa e rimarrà questa, pagano attualmente per quest'anno 169 milioni circa di dollari in stipendi, la Luxury è a 170-171 quindi sono poco sotto la Luxury, hanno tutti i posti pieni e saranno questi, saranno questi al netto di ulteriori trade e movimenti che ci saranno durante la stagione e poi soprattutto nella prossima off-season perché salarialmente i Brooklyn Nets partiranno la prossima estate come la squadra con maggior spazio salariale dell'intera NBA. Hanno finalmente in scadenza i contratti di Ben Simmons, di Bogdanovic, di Danny Schroeder, se vuoi anche di Trenton Watford sotto, di Shaq Milton che ha un non garantito, hanno in scadenza Deiron Sharp, Cam Thomas, Zaire Williams e hanno virtualmente in scadenza anche Dorian Finney-Smith che come potete vedere per l'anno 2025-2026 ha una player option da 15 milioni e 3, player option che sono abbastanza certo non eserciterà perché? Perché ha tutte le possibilità per prendere un contratto analogo se non superiore perché ha 31 anni e quindi potrebbe essere il suo ultimo contratto di un certo tipo a livello di longevità in NBA per cui insomma sono abbastanza sicuro che il contratto di Dorian Finney-Smith scadrà anche lui alla fine di questa stagione. Rimangono fuori Nick Lexton che come detto ha rinnovato e Cam Johnson che è il vero pezzo pregiato e poi ne parleremo di questo roster. Ci sono poi Noah Clowney che ha giocato una decente stagione l'anno scorso e sicuramente avrà minutaggio quest'anno e poi insomma Darry Whitehead ma poca poca roba. L'intento è chiaramente quello di portare in scadenza e 2025-2026 è finalmente l'anno zero. È l'anno zero anche perché e tralascerei quelle che sono state le statistiche della scorsa stagione facciamo un passaggio breve ma come potete vedere Cam Thomas tirare e tireremo ha avuto la miglior media punti l'anno scorso e la avrà sicuramente anche quest'anno e sarà anche più alta perché i tiri aumenteranno ed erano già 18 per partita. Se è andato Michael Bridges e poi per il resto insomma veramente veramente c'è poco c'è poco da dire o meglio ci sarà da dire ma lo dico dopo. Per quanto riguarda poi un'analisi di quelle che sono le prospettive future andiamo a vedere le picche al draft perché Brooklyn è riuscita nell'impresa di farsi restituire in sostanza le proprie picche che erano state investite all'epoca dei big 3 per portare James Harden a Brooklyn quindi in accordo insomma con gli Houston Rockets i Rockets hanno restituito le picche ai Brooklyn Nets che quindi hanno le proprie sia per il 2025 sia per il 2026. A queste si aggiungono le picche dei New York Nets derivanti dalla trade Michael Bridges 2025, 2027, 2029 e 2031 quindi quattro pic future dei cugini dei New York Nets sono in possesso dei Brooklyn Nets. I Brooklyn Nets quindi ora finalmente possono tancare senza le proprie scelte converrete con me che tancare non ha alcun tipo di senso perché le proprie percentuali di possibili scelte alte ce le ha in mano qualcun altro quindi non avrebbe avuto senso tancare ma adesso senso ce l'ha e come tancare e tancheremo si diceva e questa è la depth chart dei Nets. Da anno titolare Danny Schroeder con Cam Thomas, Dorian Fini-Smith, Cam Johnson, Nick Lexton sarebbe anche un quintetto interessante tutto sommato c'è l'MVP dei mondiali, c'è un giocatore da 22 e mezzo di media, ci sono due role player come Fini-Smith e Cam Johnson, definibili 3&D sicuramente Fini-Smith, Cam Johnson con un minimo di pericolosità offensiva in più, Nick Lexton è un ring protector, un rimbalzista, c'è Bevan Simmons che è stato a suo tempo un all-star con grandissime aspettative, un ottimo tiratore attaccante come Bojan Bogdanovic e poi insomma il resto è composto tutto da giovani, spicca Killian Hayes all'interno di questa squadra e credo sia stato preso o comunque con, non so se sia un non garantito, un chue il colore giallo ma siccome mi aspetto che giocatori come Schroeder, Fini-Smith, lo stesso Cam Johnson potrebbero partire assolutamente da Brooklyn prima della fine della stagione, avere Killian Hayes che ti fa fare sufficientemente schifo è stata un'ottima scelta. A proposito di far schifo, andiamo a vedere le aspettative per la prossima stagione. Confesso di aver scelto Ben Simmons per gli highlights perché chi cacchio sceglievo, se no, Ben Simmons è l'unico di cui ci siano highlights su YouTube di questo roster e che durino abbastanza ovviamente per coprire tutto lo spazio di parlato mio di questo momento. Allora, per i bookmakers questa è la squadra peggiore dell'intera NBA, la linea è 19 e mezzo e io nonostante comunque la presenza roster di giocatori interessantissimi dico comunque under, under perché i segnali vanno tutti in quella direzione. Il primo segnale? Si sono fatti restituire le proprie pick dai Rockets e quindi avranno le loro scelte sia per il draft 2025 sia per il draft 2026 e abbiamo avuto modo di dire in passati in precedenti video quanto talento ci sia nei prossimi due draft sulla carta. Secondo segnale? La presenza massiva e massiccia di contratti in scadenza a roster. Il terzo segnale è la presenza di un allenatore europeo esordiente e giovanissimo che è comunque sinonimo di voler ripartire tassativamente da zero. È lo specchio dell'idea di voler cominciare un nuovo corso. E per ripartire da zero, nella situazione attuale dei Nets, la strada percorribile è solamente una. Far passare questa stagione, sperare in una pick molto alta e ricostruire il roster da quasi zero con Clexton che appare l'unico punto fermo di questo roster anche per il futuro. Ovviamente c'è enorme curiosità per l'ennesima volta sullo stato di Ben Simmons che è giunto finalmente all'ultimo anno del suo onerosissimo contratto. Così come Schroeder e Bogdanovic oltre a, come detto, Finney Smith che ha una player option per la prossima stagione e che personalmente, dubito, verrà esercitata. Monetizzare il più possibile è imperativo per questa squadra, soprattutto con i due roleplayers pregiati che hanno Finney Smith per l'appunto e soprattutto Cam Johnson che ha ancora tre anni di contratto e può far comodo a tantissime squadre di media alta fascia. Più difficile ricavare qualcosa da Danny Schroeder e Bojan Bogdanovic, poiché in scadenza secca a fine stagione. Men che meno ovviamente da Ben Simmons. Non c'è realmente molto da dire, se non che ritengo sia il caso di capire Ken Thomas e Zaire Williams cosa possano dare e quanto possano valere per i progetti futuri di franchigia. Una menzione ad Aaron Sharp e Noah Clowney, che avranno minuti e spazio, ma per il resto è veramente la classica squadra da tanking pesante. Il rischio, forse l'unico, è che i veterani in scadenza giochino alla morte per guadagnarsi il contratto per la prossima stagione, ma poi sta al coach ed eventualmente alla dirigenza a far capire che non è il caso. Obiettivi? Fare il peggio possibile a livello di record. E stop. Con questa succosissima panoramica su quella che per molti è la squadra peggiore della prossima stagione NBA, ma sicuramente la migliore per quanto riguarda la qualità delle canotte. Vi ricordo la promo, negozietto in descrizione. Noi abbiamo chiuso qui il nono episodio di questo 30 su 30. Da qua in avanti, con eccezione forse degli Atlanta Hawks, che comunque sono una squadra interessante potenzialmente, direi che si va verso la media alta classifica, posizioni sicuramente da postseason. Abbiamo parlato di queste prime nove squadre, l'unica forse, anzi un paio di interessanti ce n'erano, San Antonio e Memphis sicuramente, che possono crescere ulteriormente. Ed ora andiamo su quelle che sono già lì in alto. Magari anche i discorsi saranno un po' più interessanti, un po' più spinti e susciteranno un po' più di commenti. E a proposito i commenti, prima di chiudere, commentate, perché insomma sto leggendo tutti i commenti riguardo il tifo spericolato per l'algoritmo di YouTube. Continuate così, perché è l'unico modo per far conoscere questi video e questo canale alle persone interessate di Basket NBA. Signori, ho detto tutto. Buona giornata, il France. Grazie.